bentornati bentornati su radio design finalmente dopo anche questa volta una lunga pausa torniamo con storie digitali questo podcast che non ha un nome ma in realtà ce l'ha siamo sempre io nicola e paolo piacere vi parliamo scusate sto morendo vi parliamo sempre dall'istituto italiano design di perugia oggi affrontiamo un tema che ho mai affrontato fino ad ora che è l'influencer marketing l'influencer marketing paolo che cos'è una parolaccia no o non è neanche un malanno di stagione come quello che sta colpendo ora che ti sta portando via nel fiore degli anni anche se definirlo fiore non mi sembra appropriato ma non proprio mi hanno paragonato a voldemort lo fanno quindi puoi immaginare nel fiore della mia bellezza comunque ecco ad esempio l'influencer marketing a noi non riguarda se non da un lato della barricata non ci chiameranno mai per rimpiazzare chiara ferragni panten probabilmente non ha il tuo numero in rubrica che ne sai che ne sai tu di un campo di grano perché ci ascolta dovete sapere che io ho pochi capelli è un eufemismo ovviamente però sei bellissimo lo so questo lo sapevo benissimo tornando all'argomento se riusciamo a 30 secondi parliamo di influencer marketing allora abbiamo già accennato a questo argomento quando abbiamo parlato di tik tok per chi si fosse perso due anziani che parlano dell'ultimo trend digitale vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultima puntata l'influencer marketing consiste ed è una strategia che al nome nuovo ma è vecchissima nel rivolgersi a una o più figure sfruttando la su la loro o su authority per promuovere un marchio tutto qua molto semplice ma nel mondo digitale non si parla più di spot o di comunicazione calata dall'alto ma si parla di flussi comunicativi trasmissione di valori 24 ore su 24 quindi la figura dell'influencer è ben diversa da quella del testimonial ecco pensiamo a figure che ora sono arrivate ai onori della cronaca come chiara ferragni ovviamente altri influencer che macinano numeri pazzeschi sui social esatto e abbiamo anche attenzione abbiamo il pubblico ciao ragazzi ciao ragazzi ciao mitici siamo famosi fateci delle stories sì esatto quello che dicevi tu è intanto bisogna dire che l'influencer marketing ha le sue radici nel passato perché adesso noi parliamo di influencer marketing influencer grazie diciamo alla rete tantissime persone sono riuscite a raggiungere un vasto pubblico basta avere una serie di caratteristiche che non staremo qui ad elencare però anche prima c'era un influencer ovviamente i canali erano molti meno sostanzialmente era la tv però anche allora se ci fate caso tutti che ne so le campagne pubblicitarie televisive si basavano su un influencer famoso del piero con l'uccellino del piero con l'uccellino ma penso anche a maurizio costanzo con le camicie lui era famoso per essere privo di collo un personaggio famoso e tramite questo messaggio ironico lui si è legato a queste camicie dino r collo fit mi sembra si chiamassero ma parliamo di fine anni 80 ignoro ed è stato un influencer ante litteram se vogliamo esatto oggi andando avanti diciamo tutto questo questo ramo che ormai diventato gigantesco digital marketing si è espanso e prende sempre più piede e abbiamo ricercato un pochino di dati un po di numeri per capire anche quanto è grande il fenomeno e quali criticità presenta intanto anche in italia finalmente l'influencer marketing sta prendendo piede io sono anziano sono anziano ma non sei solo nel 2012 io feci il mio primo viaggio con dei blogger in egitto come influencer attenzione io ero un influencer circa sette anni fa poi essere così duro con te stesso poi ho abbandonato un pochino resto comunque molto influente sulle cazzate ovviamente a livello locale però non più come viene considerato ora un influencer però già allora che diciamo la prima i primi passi che si facevano in italia come soprattutto nel mondo del turismo che è rimasto sempre un po l'area pionieristica per queste cose lo ricordiamo è vero da noi soprattutto soprattutto da noi ma anche un pochino all'estero però adesso poi si è si è questo diciamo questa ramo del digital marketing ha abbracciato anche altre aree soprattutto il food per esempio è l'abbigliamento ovviamente che la fa da padrone però ci sono come diremo lo spiegheremo anche meglio ci sono tantissimi influencer ma ci sono anche tantissimi micro influencer e nano influencer cioè persone che magari hanno una visibilità ridotta che però si concentra molto sulla propria nicchia perché questo è importante paolo per una strategia molto importante perché chiaramente se andiamo a colpire con un prodotto generalista vogliamo attivare un cliente generalista io penso ad esempio ultimamente ho avuto a che fare con la scelta drammatica di una macchina e ho visto qualsiasi tipo di recensione qualsiasi tipo di articolo e mi sono imbattuto in andrea galeazzi avete presente telefonino punto net andrea galeazzi famoso per le recensioni di tutti i telefonini se te lo faccio vedere quello degli anni 90 quello un po nero in viso sì però è un fenomeno e che si è messo a fare anche io non so da quanto tempo quindi perdonatemi se dico in esattezza ma anche le recensioni automobilistiche e io quando ho sentito che il suo parere su una macchina che volevo comprare era positivo ho detto ah che bello se piace andrea galeazzi piacerà anche a me ecco questo è l'esempio di un influencer che si muove su un determinato segmento di mercato e che convince le persone perché lui è su piazza da diversi anni e la sua autorevolezza da 20 vedrai almeno almeno ti induce a insomma ti ti accompagna nel processo di acquisto quindi è tanto più importante quanto è elevata l'autorevolezza che un determinato personaggio ha in una certa nicchia se ci ritroviamo in un forum piccolissimo dove si parla di brugole del 12 oppure di cacciaviti a stella ovviamente una persona che ha autorevolezza in quell'ambito riuscirà a convogliare quel seppur piccolo bacino verso delle abitudini d'acquisto quindi bisogna andarci coi piedi di piombo non conta solo chiara ferragni esatto questo si riconduce un pochino a quello che dicevo cioè quando decidiamo quando un'azienda decide di fare una campagna deve intanto avere molto chiari gli obiettivi quindi obiettivi che poi devono avere determinate caratteristiche cioè devono essere misurabili devono essere raggiungibili quindi mai sognare cose impossibili e poi soprattutto decidere quali influencer coinvolgere quindi non andare a pescare nel mucchio ma scegliere l'influencer giusto quindi parlavamo di influencer quindi che hanno un bacino molto ampio di follower di seguaci detto in italiano sembra una cosa molto religiosa e poi micro influencer quindi parliamo anche di persone che vanno nell'ordine dei 5.000 10.000 follower che siano reali ovviamente perché sapete tutti che ci sono un sacco di botti in giro e poi anche nano influencer cosa come funziona una campagna da dove si parte intanto da un famoso chi coinvolgere e come farlo quindi un calendario editoriale scegliere i contenuti scegliere dare un brief che spesso il brief sapete tutti più o meno cos'è cioè le indicazioni che un'azienda da a un committente in questo caso influencer o un'agenzia che cura l'influenza perché tanti non lo sanno ma spesso gli influencer sono sotto contratto con determinate agenzie e partendo da questo appunto bisogna dare poi delle linee guida gli influencer e da qui si parte si parte facendo cosa generando tutta una serie di contenuti che quali sono paolo l'abbiamo detto più volte che il contenuto che deve essere originale pensato ad hoc pensato sul proprio target ricordiamoci che la produzione di un contenuto è di fondamentale importanza quindi non puoi fare esattamente la stessa cosa che fa il tuo competitor perché non funzionerà se fai la stessa cosa i contenuti in questo caso quando parliamo di questa strategia di marketing sono fondamentalmente le sponsorizzazioni i giveaway i contest e e comunque poi tutto quel flusso comunicativo che il l'influencer porta avanti perché ok c'è il brief ok ci sono le consegne da parte dell'azienda committente ma poi è lui il performer perché questo non è un testimone lo ricordiamo è un performer che inserisce recensioni per l'appunto videoprove che ovviamente vengono incentivate tramite regali un rapporto diretto o tra il fatto che viene pagato questo influencer quindi non dimentichiamo perché sembrano così sinceri quando fanno la prova dicono a questo profumo è straordinario vengono pagati quindi ricordiamolo sempre ma ricordiamo anche che i processi d'acquisto non sono razionali i miei come i tuoi come i tuoi non sono razionali quindi noi lo sappiamo coscientemente questa persona è pagata ma poi sospendiamo l'incredulità e ogni volta comunque siamo indirizzati in maniera inconsapevole irrazionale verso certi certi orientamenti d'acquisto quindi per questo l'influencer sebbene pagato e noi lo sappiamo ci influenza e aiuta mi piace sei molto ecumenico oggi tra l'altro è questo questo tono di voce molto accogliente intanto attenzione abbiamo un influencer che ci pone una domanda sull'influencer marketing questa cosa mi fa ridere abbastanza abbiamo fabrizio villani che è un influencer l'ambito fintech ciao fabrizio ci chiede cosa ne pensiamo di friends e diciamo il coinvolgimento di friends di micro influencer questo posso raccontare la mia esperienza personale perché non so se conosci friends ma è una piattaforma che è stata lanciata anni fa al web marketing festival io ero presente infatti ero presente lì quando questi quattro cinque ragazzi di milano presentarono nel loro pitch loro pitch elevator di fronte agli investor questa questa idea solo parole straordinarie scusa forse sto esagerando con i termini non continuati prego presentavano questo progetto di fronte a persone che avrebbero dato gli sghei per questo già più facile da capire per per diciamo per lanciare questa start up che ormai non è più una start up allora venne vista come una novità perché praticamente era una piattaforma che riusciva a coinvolgere tutta una serie di persone che si iscrivevano all'interno di questa piattaforma e che in cambio di recensioni a coinvolgimento in base a determinati brief obiettivi eccetera potevano poi avere dei reward quindi che ne so il buono da spendere su amazon eccetera a inizio questo sistema magari poteva sembrare un pochino efficace poi secondo me si è perso un pochino nel tempo e a parer mio questo tipo di marketplace che coinvolgono gli influencer non ha mai funzionato veramente uno perché le metriche l'algoritmo diciamo valuta in automatico un influencer e quindi non c'è un aspetto qualitativo ma solo quantitativo dei numeri quindi se io arrivo lì presente e con molta facilità mi compro 10.000 follower mi scrivo su questi marketplace poi in automatico vengo valutato come un grande micro influencer un determinato ambito poi la valutazione diciamo di metriche come l'engagement eccetera secondo me non era così efficace perché poi ho fatto anche delle prove anche su me stesso venivo considerato un idolo di determinati settori in realtà io non lo sono e quindi già sulla mia esperienza personale ho detto vabbè questo algoritmo non è che funziona più di tanto in più questo sistema di coinvolgimento di persone che sostanzialmente si iscrivevano anche così un po a caso su queste piattaforme e venivano coinvolte in queste campagne tipo che ne so vai al ristorante x fatti una fotina e guadagni tot punti con un sistema di gamification sostanzialmente non ha mai funzionato perché la verità è che l'influencer il ruolo di un influencer è fondamentale soprattutto un influencer lo devi valutare da un punto di vista qualitativo ovvero vedere come lavora vedere se effettivamente ha un alto livello di engagement se ha un seguito reale se viene considerato da quella micro community come una persona effettivamente brava capace di trasmettere determinati valori quindi è difficile fare l'influencer soprattutto un elemento fondamentale a parer mio è quello della continuità su questo lavoro quindi non è che arriva Nicola Palumbo che quando c'è tempo fa due fotine ecco l'influencer è un lavoro che è costante e reale e infatti viene premiato solo colui che ci si impegna veramente su questo quindi a parer mio queste piattaforme non sono proprio il top come anche Bazzol che è un'altra piattaforma che però se ho capito bene si sta spostando invece su una valutazione di tipo qualitativo dell'influencer però in generale questi marketplace lasciano il tempo che trovano però io magari se mi pagano cambio idea siamo prontissimi a cambiare idea su qualsiasi cosa e la nostra moralità è veramente d'acciaio non so se ho risposto bene Fabrizio ricordati Nicola Palumbo le parole in inglese sempre tradotte in italiano giusto giusto scusa Fabri la prossima volta tradurro tutto io cerco di tradurre il più possibile e questo spero che mi venga riconosciuto no scherzi a parte io non conoscevo la piattaforma quindi mea culpa però è molto interessante quello che ha detto Nicola su un approccio che non può essere misurato soltanto tramite numeri ok il digital marketing del quale noi andiamo pazzi ci eccita ci eccita ci arrapa tantissimo ma è basato sulle numerabilità di ogni variabile ed era una cosa che non era presente in passato nell'era pre digitale ok potevano essere quantificati i fenomeni anche prima ma ora può essere valutato tutto e tutto può essere tradotto in numeri ma i numeri che traducono tutto non raccontano tutto se tu abbiamo parlato più e più volte del processo irrazionale d'acquisto quello che ci spinge a comprare una macchina invece che un'altra ok può andare a finire in un algoritmo questa motivazione d'acquisto si in una certa parte si ma esistono alcune variabili che non sono riassumibili in termini matematici ma che hanno a che fare con una sfera emotiva e il legame emotivo che un influencer micro macro nano chiamatelo come vi pare riesce a stabilire con una community va ben oltre un like una condivisione perché ci sono alcune persone che si fidano tantissimo di una figura di un influencer dicendo fottutamente non stavo per dire veramente va bene non lo dire vai avanti si fidano fottutamente di un influencer e questa cosa è difficile da comprendere perché molti utenti che magari seguono tutti i giorni un dato personaggio non interagiscono e questa persona non verrà considerata al pari di uno che fa una condivisione magari ma senza neanche ascoltarlo quindi questo teniamolo bene a mente esatto esatto intanto tu se vai a ritrovare un attimo quei numeri fighissimi che avevamo visto numeri stupendi ritorniamo adesso ci siamo persi un pochino su questa valutazione che abbiamo fatto lì sul momento ma è stato bello esatto un altro elemento fondamentale che andavamo a analizzare è ovviamente il budget ci siamo basati un pochino su per iniziare questo discorso su un articolo uscito su Talkwalker che se non lo sapete è un sistema che vi permette di avere dei report su determinate metriche soprattutto nell'ambito appunto dell'influencer marketing che prende in considerazione un altro fattore fondamentale che spesso i clienti ignorano che si chiama budget budget è una brutta parola ecco attenzione Fabrizio Villani ci fa una valutazione sul momento leggiamola perché secondo me vale la pena mi trovate d'accordo dice Fabrizio sulle vostre considerazioni probabilmente oltre al processo irrazionale di acquisto c'è anche un processo irrazionale di investimento perché alcune di queste piattaforme hanno ottenuto importanti round di finanziamento esatto non dire round di finanziamento perché è una parolaccia esempio Bazzol a dicembre ha chiuso un finanziamento da 7,8 milioni di euro salute ecco salute a Bazzol che però appunto secondo me al pari di France e tutte queste altre diciamo marketplace per influencer non avranno secondo me una cioè o si spostano come dicevamo su e come diceva anche Fabrizio su una valutazione obiettiva e qualitativa dell'influencer di quella persona che usa la piattaforma altrimenti poi secondo me resta un pochino debole anche il proprio prodotto cioè alla fine dopo un po' i clienti che magari lanciano delle campagne tramite queste piattaforme capiscono che non c'è un ritorno un vero return on investment possiamo dirlo su queste campagne attenzione comunque il marketing funziona altissimo scatenati sto vedendo che si è agitati Fabrizio ha ragione round di finanziamento vuol dire gente che ti dà gli sghei però è molto interessante è molto interessante perché in tutti i mercati poi non solo influencer marketing c'è questo fenomeno cioè marketplace che cercano in qualche modo di diventare un punto di un hub per gli influencer di tutti i settori e appunto poi cercare di convogliare un pochino tutte queste forze ci salutano ci stanno salutando tantissimo oggi eh guarda dobbiamo rifare di nuovo il programma facciamo un after hour stiamo qui fino alle quattro e mezza di notte mica vi rompete le balle a ascoltarci a parlare di marketing fino alle quattro vero ciao esatto salutiamo tutti ecco anche lei ride vede l'orario ciao anche a te attenzione è incredibile intanto Fabrizio dice very good continua sull'inglese ci prende per il culo benissimo fai benissimo e comunque niente il discorso è questo sostanzialmente o queste piattaforme si spostano su una valutazione qualitativa o secondo me poi dopo un po' spariscono però il tentativo c'è e provano a farlo tutti quanti certo e quando c'è una necessità a livello aziendale tu hai detto vengono fuori dei hub quando c'è un bisogno viene fuori qualcuno che cerca di ovviamente colmare questa lacuna e per natura di internet c'è quella creazione di hub che se vogliamo è anche lo schema secondo il quale esistono delle entità che fanno supporto a delle aziende offrendo delle figure professionali esterne di supporto non lo sai fare lo faccio io per te esatto esatto e questa cosa si lega molto al discorso del budget perché cosa fanno perché sono nate queste piattaforme perché sostanzialmente soprattutto nel mercato magari europeo soprattutto quello italiano dove il budget è sempre una voce che langue risicatissimo perché Tollwalker parla di un investimento medio di 10.000 dollari però in Italia con 10.000 dollari ci paghi tutto il pacchetto marketing per una media impresa quindi attenzione cioè di cosa stiamo parlando stagisti sono gratis ovviamente piattaforme come Tollwalker o Bazzol eccetera venivano proprio incontro a questo cioè investire con un minimo investimento riuscire a fare una campagna di influencer marketing però come si dice al sud tanto spendi e tanto ci guadagni cioè nel senso che poi se spendi uno otterrai uno o anche meno se ci investi veramente i soldi poi avrai finalmente o veramente un ritorno sull'investimento e quindi niente il budget è fondamentale soprattutto perché gli influencer hanno un costo e se sono gratis fatti due domande direi al cliente finale se sei bravo a far qualcosa fatti pagare per farlo esatto fatti pagare per farlo cos'altro dire una cosa fondamentale è spesso questa cioè una carenza da un punto di vista del monitoraggio e qui lascio la parola ovviamente a Paolo perché è fondamentale il monitoraggio beh l'abbiamo detto prima se tutti i dati in input ed output del marketing digitale sono numerabili ci vuole qualcuno che stia a guardare questi cazzo di numeri perché uno non dire parole in inglese ok disdix no bisogna monitorare bisogna seguire uno perché va fatto con qualsiasi tipo di azione legata al digital marketing due perché in questo caso demandando delle attività e la rappresentazione la rappresentatività diciamo del proprio brand a una figura terza tu devi monitorare questa figura terza perché le metriche di vanità quindi parliamo dei suoi di like condivisioni quelli che piacciono tanto alcuni clienti in realtà possono essere gonfiate non reali ci vuole un'attività di monitoraggio in più ci vuole un'attività di monitoraggio a livello qualitativo ritornando a quello che diceva Nicola perché se il tuo testimonial influencer chiamatelo come volete dovessi incappare in qualche gaffa o in messaggi che sono in controtendenza con la filosofia del tuo brand questa variabile va monitorata va seguita e quindi bisogna prendere delle decisioni di conseguenza quindi il monitoraggio sì ci si basa su analytics su metriche su tool anche più o meno automatizzati ma poi bisogna stabilire un rapporto reale concreto con questo influencer perché se poi tu non lo segui non sai cosa dirà le persone che lo seguono ecco esatto una cosa interessante ciao ragazzi ci salutano di nuovo ah sono gli stessi? ma non lo so comunque ci salutano un botto di persona e un'altra cosa interessantissima che veniva fuori da un altro articolo era che per la prima volta in controtendenza poi qui bisognerebbe prendere questi numeri con le pinze sì con grano sali esatto anche qui parolacce stanno entrando vorrebbero entrare dentro l'istituto ma non ci faranno un sacco di storie siamo veramente famosi comunque continuando parliamo di tutta una serie di ci chiedono se possono fare una foto? potete fare una foto sì take a picture siamo troppo famosi sì continuiamo perché sennò qui perdiamo i nostri follower sì talkwalker parla poi di anche altre elementi che sono fondamentali dell'influencer marketing stiamo parlando di delle criticità che si incontrano quando si coinvolge l'influencer intanto l'influencer di per sé è autonomo sì nella creazione dei contenuti nel senso che tu una volta che dai un brief poi è l'influencer stesso che sceglie come mettere in pratica tutto questo perché deve essere così perché conosce bene le persone che lo seguono la community e quindi ha un suo modo di raccontare ha un suo tono di voce che ovviamente non deve coincidere necessariamente con il brief o con il cliente ma essere coerente quello senz'altro esatto quali possono essere i problemi intanto una gestione di crisi che può essere appunto alcune gaffe che gli influencer possono commettere può succedere a volte appunto che magari per determinati settori alcune parole o alcuni elementi non debbono venire fuori io faccio un esempio praticissimo nel settore della birra per esempio nel mondo artigianale la birra ghiacciata è un'eresia ora se magari coinvolgi un influencer che non conosce queste piccole cose e dice sto bevendo una birra ghiacciata artigianale ti ritrovi poi alla porta tutti i nerd che dicono questo non ci capisce una mazza perché la birra non va bevuta a ghiacciata ma va bevuta a certa temperatura quindi poi si parlava anche di altri casi che possono riguardare ad esempio l'uso del latte materno per determinati settori quindi bisogna fare sempre attenzione e dare delle linee guida all'influencer quando si coinvolge e poi ancora ci sono altre criticità che possono essere intanto l'errore nella valutazione quindi scegliere magari un influencer che non è in linea con il target non ti darà poi sicuramente un riscontro da un punto di vista economico come può accadere ovviamente il contrario e si spera per le aziende quindi ci sono tutta una serie di valutazioni da fare e poi c'era un elemento interessante che diceva appunto che nei Stati Uniti in alcuni casi l'investimento sull'influencer marketing sta scendendo perché alcune aziende credono che non ci sia un vero ritorno un enorme numero di aziende ha detto che le risorse che verranno allocate per l'influencer marketing non solo non cresceranno ma caleranno drasticamente nei prossimi semestri questo perché non sono arrivati i ritorni nel breve periodo che si aspettavano questo è un elemento che va valutato con attenzione perché ok io capisco gli obiettivi di breve medio periodo che bisogna portare sempre dei bilanci quindi ogni strategia che tu metti in atto deve corrispondere carta canta a delle entrate vero è anche vero eh? carta canta verba bola avete un sacco di pazienza ad ascoltarci mettere e far luce su queste cose perfetto perdonateci scusate comunque siamo dei coglioni ciao 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 se bisogna stabilire un rapporto che abbiamo già detto anche emotivo non solo numerico non solo aritmetico con una figura professionale che è questo influencer e una community quindi è un processo emotivo che si articola su ben due fronti e uno di questi è mediato addirittura richiede tempo richiede investimento richiede energia richiede i crederci soprattutto e per evitare molti dei problemi che ha citato lui serve l'attività preliminare tu non puoi scegliere un influencer se non sei sicuro di quale sia il tuo target il tuo posizionamento rispetto alla concorrenza perché rischi di andare a cercare un target più in alto o più in basso rispetto a quello che devi andare a occupare quindi se commetti un errore legato all'influencer e la maggior parte dei casi il colpevole lo vedi dallo specchio perché sei tu che non hai le idee abbastanza chiare sulla strategia che la tua azienda deve mettere in atto e quindi ti rivolge alla persona sbagliata solo perché è di modo o perché ti hanno detto che è bravo magari una persona con una community meno ampia può fare più al caso tuo perché potresti andare a occupare quella nicchia di mercato alla quale ancora non avevi pensato per pensare a quale nicchia occupare bisogna fare un'analisi sui propri dati e quelli dei competitor non ci inventiamo niente di nuovo no? esatto infatti questa è la valutazione che viene sempre fatta a livello preliminare prima di partire con una vera e propria strategia sempre direi che ci siamo dilungati più del dovuto come sempre è una vergogna è un classico è un classico adesso facciamo i fighi quelli delle radio sono le 19.49 in realtà questo è un podcast quindi per voi questo elemento è irrilevante non ne frega niente siamo arrivati a circa mezz'ora di registrazione tossendo come degli appestati come degli appestati quindi ci avete sopportato più del dovuto direi che a questo punto rimandiamo a prossime puntate un approfondimento su tutti questi ambiti dell'influencer marketing tireremo fuori qualche numero potrà essere veramente interessante fateci delle domande ovviamente potete commentare su facebook su youtube trovate questo podcast a cui potete attenzione anche abbonarvi incredibile su itunes se siete proprio dei pervertiti inguaribili potete mettere una stella o 5 a seconda 5 per me una stella per paolo potete specificarlo nel commento potete seguirci tra una canzone di achille lauro e una di sfera e basta potete ascoltare anche le puntate noi siamo grandissimi fan della trap quindi massimi esperti in materia esatto potete ascoltare su spotify questo programma e anche su spreaker su tutti i client client è una parola bruttissima tutte le app su cui potete poi ascoltare abbonarvi a determinati podcast quindi l'appuntamento è si spera per la prossima settimana lo sarà e buon influencer marketing a tutti sembra cosa la Montemagno buon influencer marketing a tutti piru piru ciao piru piru